Manifestazioni contro la guerra oggi a Bologna, in piazza del Nettuno, presidio del sindacato generale di base che chiede l'Italia fuori dallo scenario bellico e dalla Nato. Invoca invece sanzioni contro la Russia di Putin più Europa, mobilitata in piazza Santo Stefano in solidarietà al popolo ucraino. Anticipata domani la fiaccolata No War organizzata dall'Associazione Portico per la Pace. Parteciperà anche il Comune all'appuntamento alle 18 in piazza Maggiore.